Il treno suburbano S5-24515, di Trenord, proveniente da Varese, è diretto a Treviglio, delle ore 5.29, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno suburbano S5-24510, di Trenord, proveniente da Gallarate, è diretto a Varese, delle ore 6.31, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Castronno, Gazzada Schiano Morazzone. Il treno Regio Express, 2521, di Trenord, proveniente da Porto Ceresio, è diretto a Milano Porta Garibaldi, delle ore 6.51, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni eccetto, Canegrate, Rho, Milano Certosa, Milano Villa Pizzone. Il treno suburbano S5-24514, di Trenord, proveniente da Treviglio, è diretto a Varese, delle ore 7.31, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Castronno, Gazzada Schiano Morazzone. Il treno suburbano S5-24503, di Trenord, proveniente da Varese, è diretto a Pioltello Limito, delle ore 9.29, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno suburbano S5-24504, di Trenord, proveniente da Pioltello Limito, è diretto a Varese, delle ore 13.01, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Castronno, Gazzada Schiano Morazzone. Il treno suburbano S5-24585, di Trenord, proveniente da Varese, è diretto a Gallarate, delle ore 22.59, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Cavaria o Gionairago.